Bene, questa nuova puntata ci vedrà ancora proseguire il nostro splendido viaggio dentro il grande mistero della vita di fusione con il divino volere, esperienza molto bella, molto entusiasmante e anche molto trasformante la nostra vita. Ricordiamo sempre, questa è una piccola introduzione, che quando si parla di fusione si parla evidentemente di due soggetti, anche i rapporti molto profondi e intimi di amore l'uno ai confronti dell'altro, ecco, quindi questo non dobbiamo mai perderlo di vista, che la vita nella divina volontà è la vita di fusione, fondamentalmente vita di amore, oggi è la ricorrenza liturgica di Santa Teresa di Gesù Bambino, già durante la messa di questa sera ricordavo come la testimonianza, la vita, la via di Santa Teresa di Gesù Bambino, quella via che le ha procurato il titolo di dottore della Chiesa, è stata una via tutta quanta improntata, scommessa, orientata, fondata, su un amore talmente grande a Gesù, ecco, da spingere questa ragazza a definirsi il giocattolo di Gesù, puoi fare di me qualunque cosa tu voglia, e il modello di questo è come un bambino tratta i suoi giocattoli, che se ci vuole giocare ci gioca, quando gli va li prende, quando non gli va li mette da parte, e questo è il suo modo di fare e di trattare, così fai tu con me, ecco, quindi questo è lo stile, diciamo così, di Santa Teresina, peraltro, ecco, non del tutto, ma contemporanea, almeno in parte, di Luisa, perché quando Luisa cominciava a scrivere, Santa Teresa di Gesù Bambino, che deve essere morta, credo nel 1904, se non vado errato, perché era del 1800, morta giovanissima, morta a 24 anni. Bene, andiamo direttamente oggi ai nuovi brani, siamo sempre nel volume dodicesimo, questa è la quattordicesima puntata di questo ciclo di catechesi, siamo ancora nel volume dodicesimo, oggi cominciamo la lettura dal 3 settembre del 1919, un brano abbastanza breve, per cui forse questa sera riusciremo a meditarne insieme due. Stavo lamentandomi col mio dolce Gesù del mio povero stato e come sono rimasto sta un essere inutile che non faccio nessun bene, quindi a che pro la mia vita? Ed il mio amabile Gesù mi ha detto, figlia mia, il pro della tua vita? Lo so io, ne spetta a te investigarlo, ma sappi però che il solo fonderti in me tutti i giorni e parecchie volte al giorno serve a mantenere l'equilibrio di tutte le riparazioni, perché solo chi entra in me e prende il principio da me di tutto può equilibrare da parte delle creature la gloria del Padre, di tutti e di tutto, perché stando in me un principio eterno, una volontà eterna, potete equilibrare tutto, soddisfazione, riparazione e gloria completa del Padre Celeste da parte di tutti. Sicché come tu entri in me viene a rinnovare l'equilibrio di tutte le riparazioni e della gloria della maestà eterna. E ti par poco ciò? Non senti tu stessa che non ne puoi fare a meno e che io non ti lascio, se prima non ti vedo fonderti in tutte le mie singole parti per ricevere da te l'equilibrio di tutte le riparazioni, sostituendoti a nome di tutta l'umana famiglia, cerca per quanto è da te di ripararmi per tutto. Se sapessi quanto bene ne ricevi il mondo, quando in un'anima senza l'ombra dell'interesse personale ma solo per il mio amore, si eleva tra il cielo e la terra unita con me ed equilibra le riparazioni di tutti. Guardate che mi ingrandisco un po' il testo perché sto facendo un po' di difficoltà nella lettura, quindi poi leggere malamente certamente non aiuta a seguire. Questo è un brano molto bello, come sempre. Alcuni aspetti molto molto importanti, ecco. Il primo sicuramente può valere per tutti noi. Luisa si lamenta e dice Ma, povera me, sono un essere un inutile che non faccio nessun bene. Che campo ha fa? E dice, a che pro la mia vita? Ecco, questi pensieri larvatamente depressivi, insomma. che ci possono prendere, insomma, ogni tanto, no? Gesù dà una grande risposta. Dice, figlia mia, il pro della tua vita lo so io, ne aspetta a te investigarlo. Ecco, il che Gesù, insomma, non dà soltanto una risposta intelligente per stroncare, diciamo, questi pensieri negativi e inutili. Ma dice anche una cosa molto molto importante, cioè, e ce la dice a tutti. Noi non conosciamo profondamente il senso, la funzione, lo scopo della nostra vita oggi, in questo tempo in cui stiamo vivendo e nel contesto dei divini voleri e nel contesto anche dell'ordine del cosmo, cioè teniamo presente una cosa fa parte del mistero della divina volontà ma questo ricordiamolo, eh, di essere nati in un certo contesto storico. Noi stiamo, stiamo vivendo, chi sta ascoltando queste parole in diretto e in riferita, stiamo vivendo nel 2019, abbiamo certamente una data di nascita inferiore a cento anni fa e come mai siamo vissuti nel 2019 e non nel Medioevo, e non ai tempi dell'impero romano o ai tempi di Platone e Aristotele in Grecia. Perché? O contemporanei di Gesù, come qualcuno magari desidererebbe e sognerebbe di vederlo vivo per le strade di Galilea. Guardate che noi non lo sappiamo ma certamente un perché c'è e il perché è che quello che il Signore vuole fare con me e con te, il progetto, il disegno che ha con me e con te, deve compiersi in questo determinato momento storico, negli ambienti che io frequenterò, a contatto con le persone che incontrerò, queste e non altre. Tutte queste cose noi ora le ignoriamo. Allora, questo ve lo dico, no? Perché nella Divina Volontà si imparano tante cose, si acquisiscono tante conoscenze, ma si impara anche che molte cose non le sappiamo, non si possono conoscere e che è volontà di Dio proprio che noi non le conosciamo perché altrimenti ce le direbbe. Quello che è necessario conoscere e sapere Dio ce lo dice. Quello che non è necessario conoscere o sapere o addirittura sarebbe controproducente, Dio non ce lo fa conoscere e non ce lo dice. Ecco, questo è il... è un punto fondamentale da imparare. Per cui tante domande che ci sono, che ci facciamo, sono domande inutili e a cui risposta non c'è. La semplificazione grande, sappiamo che la vita nella Divina Volontà è vita fondamentalmente semplice. semplice vuol dire non complicata tra le altre cose, cioè ricalibrata sull'essenziale. Tante domande, no? Cioè specialmente quelle là specifiche, contingenti, perché noi possiamo sapere alcune cose in generale, ma le risposte ai problemi contingenti e ai perché particolari noi possiamo sapere. Perché le si possono sapere soltanto se Dio faccia una rivelazione particolare, straordinaria. Io non posso sapere perché, per esempio, un mese fa ho sofferto questa croce e questa prova. Non lo so. Cosa è essenziale sapere? Che quando arriva una prova io dico fiat volontas tua che credo fermamente che quella cosa sarà permessa o voluta da Dio per il mio bene e per il bene di molti che io non conosco e che insieme come scrive San Paolo alla tribolazione ci viene data anche la grazia e la forza necessaria per vivere e superare i cristiani. Punto. Sapere altro non soltanto che non serve ma Dio non vuole che si sappia altro se no ci metterebbe niente a mandarmi un angioletto dal cielo oppure qualche qualche che ne so chi qualcuno a dirmi Leonardo guarda che stai soffrendo per questo motivo quindi mettete l'anima in pace si contento tranquillo ma non me lo dice e non lo dice perché questo certamente ci ha delle buone ragioni per non dirlo perché questo vanificherebbe tutta quanto una serie di atti virtuosi che io o tu evidentemente l'io è impersonale potremmo compiere in quella certa situazione in cui ci troviamo immaginiamo che Gesù ti venisse a dire senti ti ho mandato sta croce però se tu fai il bravo e me la offri bene saranno convertite venti persone e andranno in paradiso grazie a questa sofferenza che tu hai sofferto scusate c'è qualcuno di noi che se avesse la certezza di una cosa di questa anche se ci fosse tanto da soffrire immaginiamo la crore che arriva in paradiso cioè diventerebbe tranquillo vabbè dai tanto tanto finirà facciamola sta cosa ma invece non saperla questa cosa qui qui dice ma chi lo sa ma stavo tanto bene a modo dove erano questa tegua dove erano questa croce perché è venuta allora se io non so la motivazione dovrò fare un atto di fede di abbandono capite quanti atti di virtù che puoi esercitare Dio sa perché Dio mi darà la forza Dio ne darà fuori il bene io non lo so ma sicuramente c'è un senso capite è tantissima roba questa tanta roba che mi fa diventare più santo adesso mi fa crescere tantissimo in grazia adesso e mi procurerà una quantità sterminata di cuore in cielo se questo mi fosse tolto dalla conoscenza perfetta tutte queste cose non ce le potrei avere allora dentro la divina volontà si impara tra le tante cose è che Dio sa quello che fa e noi non sappiamo quasi nulla di quello che lui fa d'accordo? ecco e dunque proseguiamo il commento quindi punto primo quindi non aspetta a te investigare ci sono molte cose che noi non dobbiamo investigare nella divina volontà si impara a non fare tante domande a Dio non farle proprio specialmente le domande di curiosità che la curiosità al cielo non piace sappi però ecco la cosa importante non ti preoccupare di che cosa campi a fare lo so io perché stai campando adesso perché stai vivendo queste cose eccetera sappi una cosa però questa dire la dice nostro signore che il solo fonderti in me tutti i giorni o parecchie volte al giorno allora dando anche qualche piccola istruzione pratico operativa cioè perché questa cosa non rimanga campata in aria esiste un atto di fusione esteso che a mio avviso come l'atto preventivo per chi viene in questo mondo è da compiere quotidianamente poi ci sono i piccoli atti di fusione quotidiana che sono un po' come gli atti attuali che più ne facciamo è meglio ma quello bisogna farlo quindi quando ci dice quando ti fondi con me tutti i giorni o parecchie volte al giorno meglio ancora ecco lo dice a lei lo dice a noi a che cosa serve questo a mantenere l'equilibrio di tutte le riparazioni il concetto di riparazione che non è un concetto uscito fuori con Luisa Piccarreta è d'accordo questo è un concetto molto antico nella teologia oggi questa parola non piace alla mentalità dominante purtroppo anche di certa parte della teologia viene considerata tra le tante cose obsolete come dire antiquate espressioni di spiritualità vecchie qualcuno dice di concetti teologici vecchi superati ecco allora la divina volontà è ordine d'accordo ogni peccato commesso dagli esseri umani squilibra un ordine assolutamente divino e quell'equilibrio va ricostituito e ciò che ricostituisce l'equilibrio violato dal peccato è la riparazione perché il motivo per cui Gesù ha sofferto così tanto e non soltanto durante la passione era proprio questo noi questo non ce lo mettiamo bene in testa perché siamo sempre molto furbi perché il nostro inconscio quando comincia ad affrontare certi cioè capisce subito che se io approfondisco questa cosa poi mi tocca farle pure a me qualche riparazione e siccome nessuno di noi gli va di farle preferisce bypassare il problema ma il problema si può bypassare non si può non si può il disordine causato dal male deve essere riparato perché è un fatto oggettivo cioè noi dobbiamo pensare al mistero del male cioè se io ragazzi prendo un una mazza d'accordo entro dentro una casa e spacco la caldaia l'ho spaccata la caldaia non funziona se qualcuno non la ripara chiaro? ah no 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 ma non bisogna ripararla perché Dio che è misericordioso ti perdona del fatto che hai preso il martello e l'hai spaccata è certo che ti perdona se tu gli chiedi scusa che hai spaccato la caldaia ma la caldaia rotta rimane che la ripara non è che si ripara da sola quella lì d'accordo o che basta chiedere perdono e magicamente la caldaia si ripara no non si ripara chi la ripara quella lì dovrà venire qualcuno a fare lavoro e il lavoro c'è un costo chiaro? ogni volta che noi facciamo anche un pensiero cattivo noi causiamo un danno nell'equilibrio nell'ordine del cosmo non soltanto a noi ma anche fuori di noi e quella cosa va riparata chiaro? uno dei motivi per cui il nostro Signore ringraziamo Dio ha creato il purgatorio è che se non c'è dentro di noi questo riequilibrio generalizzato di tutto la vista di Dio è impossibile cioè diventa anche per un'anima separata così come sarebbe per me adesso cioè vedere Dio adesso io non lo potrei fare perché morirei non ce la posso fare a sostenere una vista come la sua ci vogliono delle attrezzature i dannati da un lato vorrebbero tantissimo vedere il Signore ma dall'altro se poco poco lo scorgessero da lontano ne resterebbero terrorizzati scapperebbero non sarebbero dove andare non saprebbero dove andare a nascondersi perché è talemente tanta la indisposizione interiore che hanno verso questa esperienza che non la possono vivere allora l'equilibrio è chiaro che capite io povero essere umano ma se facessi pure penitenza per tutta la vita d'accordo a me se non concesso che fossi buono a fare pensiamo non lo so un grande peccatore uno che ne ha fatte veramente tanti io tempo fa facevo delle delle catechesi un po' un po' arzilli un po' forti dove come dire ho avuto l'idea non troppo prudente forse non so se lo rifarei adesso di mettere in giro di dire per esempio alcune pratiche penitenziali diffuse che davano i confessori per certi peccati quando anticamente io l'ho letta che l'ho letta con gli occhi miei durante gli studi di storia della liturgia cioè se tu reggi una cosa del genere capito se per un rapporto prematimuliale davano una penitenza che ora non la ripeto supponiamo che come purtroppo oggi succede cioè ci sia uno che arriva a 50 anni che ne ha fatte quanto è Carlo in Francia che non sa manco di numerargli il numero dei rapporti che ha avuto se sente una cosa del genere che fa ma se io anche facessi penitenza per tutta la vita non mi basta d'accordo perché tutta la vita cioè se la penitenza fosse quella che hanno detto a quei tempi non c'è possibilità questo perché noi siamo dei poveri esseri umani eppure quell'equilibrio violato deve essere ripristinato ora Gesù non ha fatto altro durante la vita terrena ma chi si fonde con lui chi entra in lui e prende il principio tramite tutto ciò che fa spiega Gesù può equilibrare le riparazioni di tutti e di tutto sapete che compito grande che ha chi vive questo quale beneficio immenso che arrega tu c'è un povero peccatore che ne ha fatto a tecante e Carlo in Francia che si certamente il Signore lo chiamerà a fare un po' cosa dovrà fare ma dove se va a mettere se ne ha fatte quante Carlo in Francia eccolo dove dove si va a mettere e questo perché stando in un principio eterno che sono io può equilibrare tutto come tutto equilibra io soddisfazione riparazione e gloria completa del Padre Celeste da parte di tutti sostituendosi a nome di tutta l'umana famiglia e Gesù chiosa commenta poi passiamo al secondo brano se sapessi quanto bene ne riceve il mondo quando un'anima senza l'ombra dell'interesse personale ma solo per mio amore si eleva tra il cielo e la terra ed unita con me equilibra le riparazioni di tutti questo è un atto che si fa per amore di Gesù primo perché Gesù desidera immensamente la salvezza di tutti e facendo questo si concorre alla salvezza di tutti e secondo perché si manifesta verso Gesù un amore personale e grande proprio verso di lui perché si prende a cuore ciò che a lui sta a cuore e perché anche si supplisce con questo gesto disinteressato ecco in che senso c'è la soddisfazione di tanto disamore indifferenza e disprezzo da parte di tante anni ora vediamo il secondo brano se abbiamo pochino di tempo 9 gennaio 1920 stavo pregando e col mio pensiero mi fondevo nel volere eterno e portandomi innanzi alla maestà suprema dicevo eterna maestà vengo ai tuoi piedi a nome di tutta l'umana famiglia dal primo fino all'ultimo uomo delle future presenti e passate generazioni ad adorarti profondamente ai tuoi piedi santissimi voglio suggellare l'adorazione di tutti vengo a riconoscerti a nome di tutti creatore e dominatore assoluto di tutto vengo ad amarti per tutti e per ciascuno vengo a ricambiarti in amore per tutti per ciascuna cosa creata in cui tanto amore vi è messo dentro che mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore ma io nel tuo volere trovo questo amore e volendo che il mio amore come gli altri atti siano completi pieni e per tutti perciò sono venuta nel tuo volere dove tutto è immenso ed eterno e trovo amore per poterti amare per tutti quindi ti amo per ogni stella che hai creato ti amo per quante gocce di luce e di intensità di calore che hai messo nel sole poi ci torneremo questo è uno splendido atto di fusione con Gesù da tenere presente proseguo la lettura perché adesso c'è il commento ora mentre ciò facevo un pensiero mi ha detto come va ed in che modo nostro signore ha messo in ogni cosa creata fiumi di amore verso la creatura ed una luce ha risposto al mio pensiero certo figlia mia che in ogni cosa creata il mio amore si riversava torrenti verso la creatura te lo dissi altrove te lo confermo ora che mentre il mio amore increato creava il sole dimetteva oceani d'amore ed in ogni goccia di luce che doveva inondare l'occhio il passo la mano la bocca e tutto della creatura correva il mio amore quasi ripercuotendole dolcemente l'occhio la mano il passo la bocca le dà il mio bacio eterno e le porge il mio amore alla luce corre insieme il calore e ripercuotendola un po' più forte e quasi impaziente dell'amore della creatura fino a dardeggiarla le ripeto più forte il mio ti amo eterno e se il sole con la sua luce il calore suconda le piante è il mio amore che corre alla nutrizione dell'uomo e se ho disteso un cielo sul capo dell'uomo tempestandolo di stelle era il mio amore che volendo alietare l'occhio dell'uomo anche la notte gli diceva in ogni scintillie di stelle il mio ti amo sicché ogni cosa creata porge il mio amore all'uomo e se ciò non fosse non aveva nessuno scopo la creazione ed io non faccio nulla senza scopo tutto è stato fatto per l'uomo ma l'uomo non lo riconosce e si è cambiato per me il dolore perciò figlia mia se vuoi venire il mio dolore vieni spesso nel mio volere ed a nome di tutti dammi adorazione amore riconoscenza ringraziamento e amore per tutti oh allora questo brano è un pochino distinto in due in due parti ecco la prima è proprio un atto un vero e proprio atto di fusione che adesso lo andiamo a rileggere insieme così comprendiamo ulteriormente questo ciclo di catechesi dedicato alla alla fusione nella divina volontà che certamente dobbiamo imparare a conoscere dobbiamo per quanto possibile cercare di comprendere ma poi soprattutto dobbiamo cominciare a praticarla ecco questo è un atto di fusione completo lo usiamo anche lo uso anche a diverse veglie di preghiera proprio come primo atto di introduzione alla veglia diverse volte ho usato quest'atto qui allora eterna maestà vengo ai tuoi piedi a nome di tutta l'umana famiglia numero uno dal primo fino all'ultimo uomo delle future presenti e passate generazioni ad adorarti profondamente quindi questa operazione si può agevolmente fare questo credo che l'abbiamo già visto in più di qualche circostanza e in qualche puntata precedente perché nella divina volontà a cui ci si fonde quindi in cui si entra tutto è presente in un solo istante e in un solo altro quindi basta entrare nella divina volontà per poter immediatamente raggiungere ma questo in meno di un nanosecondo perché le misure insomma molto molto piccole vanno anche sui trilionesimi di picco secondo insomma quindi sono molto molto piccole ecco e e facendo questo lavoro cosa faccio te la porto tutta l'umana famiglia per adorarti profondamente e ai tuoi piedi santissimi voglio suggellare le adorazioni di tutti attenzione cioè quello che faccio è che attraverso la mia adorazione che faccio arrivare a tutto il genere umano tutti attraverso di me unito e fuso con la tua volontà ti adorano non solo ti adorano ma vengo a riconoscerti a nome di tutti creatore e dominatore assoluto di tutti dio questo non dobbiamo dimenticarlo è creatore ma è anche creatore significa che è l'origine di tutto ciò che è signore dominus in latino significa che è il padrone il comando a lui che è suo tutto quello che noi vediamo è tutta roba sua è roba sua non soltanto perché lui l'ha creata ma perché è immediatamente soggetta al suo volere non esiste neanche un atomo in tutto l'universo ecco né un'anima né un diavolo detto fra me e voi che non sia immediatamente completamente totalmente soggetto ai voleri dell'altissimo tale che l'altissimo potrebbe fare di qualunque atomo e di qualunque cosa tutto quello che vuole chiaro questo qui ora bisogna vedere quanti uomini riconoscono Dio creatore e dominatore di tutti e di tutti poi c'è un altro fatto da fare è riconoscere Dio creatore e dominatore assoluto di tutto è il nostro dovere e a questa riconoscenza spetta il culto di latria e di adorazione che si deve all'altissimo e che glielo dobbiamo dare poi non basta questo Dio ha diritto all'amore di ogni creatura intelligente che ha creato perché il primo comandamento come lui stesso ci ha ricordato è amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutte le tue forze bene adesso quanti non dico osservano ma cercano di osservare questo comandamento chi ascolta in diretto chi ascolterà in definita questa catechesi pensi alle persone che ha intorno vede degli esempi di persone che fanno di tutto per amare Dio con tutto il cuore metterlo al primo posto a farne la ragione della propria esistenza questo senza voler giudicare no però insomma da un punto di vista oggettivo cioè se una persona non prega mai non va mai in chiesa eccetera non è che mette Dio al primo posto ma si ma fa tante opere buone per carità faccia pure insomma no e di ciascuno però buono non perderà certamente la ricompensa ma non si può dire che metta Dio al primo posto attraverso quest'atto si va ad amare Dio per tutti e per ciascuno e vengo a richiamarti e ricambiarti intenzione in amore per tutti attenzione e per ciascuna cosa creata in cui tanto amore vi hai messo dentro che mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore altra cosa queste sono le classiche cose che si imparano a fare nella divina volontà no qui l'atto di fusione si fonde si confonde a sua volta con i giri allora nella divina volontà si impara a conoscere a riconoscere tutti i casi gli infiniti di amo che il Signore ci ha detto in tutto Gesù può fare alcuni esempi la luce del sole il carolone del sole il cielo le stelle sono ti amo dell'altissimo noi non ci pensiamo no ma la perfezione del nostro corpo umano il respiro i sapori che sentiamo quando mangiamo anche i momenti belli momenti santamente belli di relax e di svago che viviamo in questo mondo cosa sono sono ti amo dell'altissimo sono veicoli del suo amore ed è talmente tanto ciò di cui siamo circondati che c'è questo paradosso che da un lato mai la creatura troverà amore sufficiente per ricambiarti in amore e dall'altro non lo nota non lo apprezza non lo riconosce non lo accoglie e soprattutto non ricambia quasi nessuno e chi farà questo? chi farà questo? in una delle prossime domeniche ho scritto in questi giorni che tra le tante cose che mi tocca fare per un periodico cattolico scrivo l'omelia della domenica quindi siamo sempre con due settimane d'anticipo in una delle prossime domeniche non credo la prossima che per l'altra ancora ascolteremo nel Vangelo con l'episodio brutto bello e brutto di Gesù che guarisce dieci lebrosi e dopo di che questi tenevano tranquillamente in giro come se niente fosse senza manco dire grazie solo uno torna indietro a dire grazie cioè e meno male insomma scusa se è poco cioè guarire dalla dalla lebra a quei tempi significava cioè cioè niente come se niente fosse figuriamo se non ringraziano neanche dinanzi a un miracolo così strepitoso ma figura se va a ringraziare al signore che la mattina ha aperto la finestra e visto sorge il sole ma chi 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 lo fa eppure questo bisogna farlo e dove si trova un amore così grande da ripagare queste continue delicatezze d'amore che Dio creatore ha sparso dappertutto soltanto nel suo stesso volere perché un amore adeguato a tanto amore è soltanto un amore immenso ed eterno come quello divino e quindi facendo questa operazione spirituale si va a prendere nella divina volontà questo stesso amore per ricambiarlo sono venuto nel tuo volere dove tutto è immenso ed eterno e trovo amore per poterti amare per tutti io non potrei come faccio io questo povero essere umano è limitato amare Dio per miliardi e miliardi di persone e amarlo con tutto come lui deve essere amare impossibile e dentro questo orizzonte ti amo per ogni stella che hai creato ti amo per quante gocce di luce e intensità di colore che hai messo nel sole e alla domanda questo era un pensiero santo come va e in che modo nostro signore ha messo in ogni cosa creata filmi d'amore verso la creatura la luce cioè la voce di Dio gli risponde come no te lo confermo e come a torrenti non solo la messa ma si riversa a torrenti pensate alla vita dell'uomo che tra l'altro non si rende conto di queste cose ma certamente quando andrà dall'altra parte se ne dovrà nuovamente per forza di cose rendere conto e prendere coscienza cioè un Dio che l'ha amato che l'ha amata che l'ha ama così tanto e che tutto si meriterebbe e che invece nulla avuto e che è stato anche in tutto e per tutto misconosciuto cioè creando il sole Dio pensava a me e a te perché senza sole qua la vita non ci potrebbe stare oceani d'amore e in ogni goccia di luce che doveva non dare l'occhio il passo la mano e tutta la creatura correva il mio amore e quasi ripercuotendole dolcemente l'occhio la mano il passo la bocca attenzione le dà il mio bacio eterno e porge il mio amore cioè attraverso la luce del sole Gesù ci sta dicendo ci porta il suo bacio eterno ci dà il suo bacio eterno ma com'è Dio ti ha mai baciato urca molto più spesso di quanto pensi ogni volta che un raggio di sole ha toccato la tua pelle tu non te ne accorgi ma dice un bacio di Dio ecco perché la vita nella divina volontà ecco oltre che farla certamente la divina volontà ecco perché si dice io vivo nella è imparare a conoscerla e a riconoscerla e soprattutto ad accoglierne non mi ricordo se in questa sede è un altro contesto recentemente io ho spiegato che la volontà non è altro che ciò che traduce in atto ciò che una persona è se Dio è amore perché l'amore sia amante amato d'accordo e amore operativo ci deve essere una volontà deve essere azionato deve essere deve essere attivato e da che cosa è da dove viene l'attivazione dalla volontà allora la prima cosa da fare perché molta gente oggi noi abbiamo l'idolatria del fare cioè pensiamo subito a che cosa dobbiamo fare no 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 impara a conoscere e a riconoscere dopo farai renditi sensibile attento al fatto che tu campi circondato dall'amore di Dio in tutto e per tutto questo tu lo devi riconoscere per giustizia d'accordo perché queste cose Dio le fate e devi ricambiarle cioè ogni uomo è assolutamente obbligato a titolo personale a ricambiarlo poi nella divina volontà si fanno questi voli questi viaggi dove lo si ricambia anche per tutti insieme alla luce il sole c'è anche il calore non troppo ecco perché poi quando il calore è troppo quando l'amore è troppo caliente se il signore ci permette una battuta io sono un pochino per costituzione oltremodo allergico al caldo sono un un amico del freddo ma questo non importa niente a nessuno comunque quasi impaziente dell'amore della creatura fino ad ardeggiarla le ripeto più forte il mio ti amo eterno con il calore del sole e poi ancora la luce che corre insieme e no il sole che con la sua luce feconda le piante a Dio cosa dice ti manda il sole perché feconda le piante le piante procurano la frutta e tu mangerai quando mangiamo questo impariamo sempre a farlo il mangiare tra l'altro da mangiare santamente mangiare santamente mangiare con equilibrio anche qui non i figli di Dio sono come dire equilibrati nel mangiare non perché devono essere come dire statue seducenti ecco ma perché devono mantenere il corpo in salute il corpo in salute si mantiene anche attraverso un'alimentazione sana e moderata e basta però dentro questa sana e moderata oh ci stanno una montagna di ottimi sapori diversi no che quando noi mangiamo li gustiamo quello non ti amo di Dio specifico particolare e quindi quando mangia un figlio della divina volontà sta continuamente accogliendo il ti amo di Gesù attraverso quella pietanza ricambiandolo con un grande grazie un grande ti amo per me e per tutti sempre quindi non fa soltanto la preghiera il Signore della Croce prima del pasto e l'agimustificrazia dopo ma anche durante il pasto si ricorda di tutto questo è una vita bellissima questa cosa quando uno comincia a farla sicuramente è la cura da ogni depressione perché ti mette cioè è un moltiplicare a livello come dire potenzialmente infinito cioè senza altro è indefinito una serie di pensieri belli positivi consolanti oltre che belli ogni cosa creata chiude Gesù chiudiamo noi porge il mio amore all'uomo e se non ci fosse questo amore non avrebbe scopo la creazione solo che Dio a differenza di Dio non fa niente senza scopo tutto è stato fatto per l'uomo la Chiesa l'ha sempre insegnata l'uomo è il vertice della creazione tutto quello che è sotto di lui è tutto per lui ma l'uomo non lo riconosce e si è cambiato per me in dolore questo è il dramma che continuamente ricorre anche in questi scritti non è solo in questi scritti questo è un tema tipico proprio della storia della spiritualità della santità della mistica anche cristiana cattolica in particolare di queste sofferenze di Gesù causate dalla mancata accoglienza del suo amore e dal suo mancato ricambio da parte delle creature e perciò dice a lui se dice a noi se vuoi venire il mio dolore vieni spesso nel mio molere e a nome di tutti nel modo in cui abbiamo appena visto dammi adorazione amore riconoscenza e ringraziamento per tutto noi invece ci diamo appuntamento se Dio vuole e se gli si aiuta alla prossima settimana ringraziamo il Signore ecco per questa condivisione ecco io confesso insomma che sono faccio sempre molto volentieri perché sono il primo a trarne immensi giocamenti anche a me fa molto bene rileggere con calma e quindi meditare tirare fuori ecco ad alta voce ecco tutte quante le cose belle che di cui sono premi e pieni questi benedetti iscritti bene vi benedico nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo Amen se Dio vuole alla prossima ecco